Fuoco grande di Cesare Pavese e Bianca Garufi Capitolo terzo Giovanni Voglio arrivare in tempo, aveva detto Silvia quasi correndo sul viottolo. Entrammo nel cortile, davanti ai portici scuri, e un contadino seduto contro lo stipite del muricciolo si alzò e aspettò Silvia. Parlarono, guardando la finestra illuminata. Erano già sulla porta quando Silvia si volse e mi gridò di stare lì, di fare quello che volevo, di sedermi e aspettarla. Entrarono insieme. Subito dopo il contadino uscì, mi venne incontro e aspettava anche lui. Era scuro, un uomo asciutto e ricciuto. Mi guardò appena, eppure attese, con l'aria cauta di un cavallo adombrato. Io, venendo con Silvia, mi ero atteso qualcosa di simile, ma piuttosto dalle cose, dalle pietre, dalle piante e dal cielo. Dalla sua terra, insomma. Non avevo pensato che anche la gente, i cuori e gli sguardi umani, sarebbero, come lei, chiusi in quel modo impenetrabile. Conoscevo di Silvia gli umori scattanti, le gaiezze, la dolcezza brutale e repentina che la invadeva tutta quanta senza sforzo, come una fiamma avvolge un tronco. E pensavo che anche gli altri fossero pronti a aprirsi e riardere d'un tratto come lei. Il contadino mi sbirciava, nel cortile ormai fosco, e la finestra in alto brillava sempre. C'era nell'aria, nella caligine fredda, un sentor acre che mi parve una cosa sola con quel buio. Era come se non lontano bruciassero scorze d'arancia sulla carbonella. Dilatai le narici. D'un tratto sentii chiamare dall'alto, e una donna sbucò, parve e scalza, dal portico e disse qualcosa attraversando di corse il cortile e sparì in casa. Anche il contadino volto il capo e fu lì per parlare. Ascoltai. Lui si cacciò una mano in tasca e tirò fuori qualcosa che esaminò accostando la mano alla faccia. Io feci un passo e mi guardai intorno. decisi di non farci più caso e pensare a me stesso. Dissi di botto a voce alta «Stanno in molti in questa casa?» Il contadino mi guardò, parve sorpreso e incuriosito, poi sorrise in un lampo come un ragazzo e disse subito «Non ci pensate, è casa grande». In quel momento due finestre si accesero a pian terreno e la luce rischiarò anche il cortile di sbieco. Sentì il frastuono di un carro alle mie spalle e molte voci, una cantava e sulla porta quasi subito ci fu qualcuno e ci chiamarono. Il cortile si riempì di rumori. Ecco che avevo salito i gradini e dicevo «Sei tu Silvia?» E il contadino era sparito e una figura tozza e grassa mi tese la mano e mi diceva «Che diamine, salite anche voi!» Ed entrammo nella sala illuminata. Che cosa dissi alla madre di Silvia? Non sapevo che dire. Mi aspettavo una brusca domanda. Lei che vuole da Silvia? Ero entrato in un mondo di passato e di sangue di cose compatte e ignote come si entra nel letto di un altro. Quello che c'era tra me e Silvia o c'era stato mi negava anche la calma indifferenza di una visita. Ero lì per fiutare, ricordare e soffrire. Potevo parlarne. Mi contenni come in visita e la madre di Silvia mi accolse come una signora innervosita e pronta che ha cose troppo più gravi sulle spalle ma sa il suo dovere. Le dissi del viaggio. Parlammo in piedi davanti a uno specchio. Mi chiese dell'umore di Silvia. «Che Natale!» diceva corrugando lo sguardo in materna sollecitudine. La scusassi. Era dura e cortese. Strascicava la voce come per dialetto. Io osservavo le labbra, le spalle sformate. Era quella, la madre terribile, la carne e l'infanzia di Silvia. Mi accompagnò su per la scala nella stanza e mi lasciò. Mi sedetti sul letto. C'era un tavolo, tendine e una poltrona alla finestra. C'era un nitido odor di bucato e di frutta. Ecco, ero entrato nel mondo di Silvia e la madre mi aveva introdotto e la casa era quella e vedevo, ascoltavo, fiutavo quel passato che avevo sempre soltanto presentito. La finestra era buia, dava sulla campagna. domani avrei veduto l'orizzonte di Silvia e respirato il suo mattino e saputo tante cose. Mi ricordai che era Natale e pensai come era strano che proprio Silvia tornasse dai suoi a Natale. Ed era strano quel silenzio, quella calma profonda. La casa era solida, ricca, di spesse pareti e impassibile. E più strano, più bello di tutto, era che un giorno quell'immobile vita avesse visto Silvia giovane, bambina, e i suoi stupori e le sue prime audace. Che c'era stato di così terribile perché Silvia dovesse urlare e schiumare e abbandonarla a tredici anni? Che cosa le aveva fatto quella mamma? Tra donne avrebbero dovuto capirsi, presi a sorridere e tollerante, come un amico di famiglia e sorrisi e girai nella stanza, mi guardai nello specchio. Tesi le braccia e chiamai Silvia. Dopo un poco bussarono e un'altra donna, una contadina grigia, mi entrò nella stanza con una bracciata di legna. Allora mi accorsi che c'era un caminetto. La vecchia disse Buon Natale e Buon Anno. Mi sorrise grinzosa e cominciò a mettere il fuoco. Mentre Curva mi voltava le spalle, io stavo in piedi alla finestra. Chiesi a un tratto Contenti che Silvia è tornata? E la vecchia si volsa a guardarmi di sbieco. Rise un poco a modo suo gorgogliando e diceva Povera anima, brutta cosa star lontano dai suoi. Ma Silvia sta bene, dissi e ha voluto venire subito. Sta molto male quel ragazzo? Giustino dite? Fece la vecchia tornando a chinarsi alla fiamma. I bimbetti si sa, ci vuol pazienza. E voi siete ancora figliolo? Si vede che Silvia vuol bene a Giustino dissi e a dire quei nomi mi sentivo il cuore in bocca e corsa subito a trovarlo e mi ha lasciato nel cortile. Dov'è adesso? La madre non può stare lontana dai figlioli. Silviuzza doveva tornare. Mi aspettano sotto per mettersi a cena. Io guardavo la fiamma ascoltando senza troppo sentirle le parole della vecchia. Compresi a un tratto che Silvia mi aspettava e un dispetto mi invase. Una rabbia per aver perso senza scopo quei minuti. Pettegola e scema non poteva dirlo subito ma le fece un sorriso e le chiesi la strada. Non conosco questa casa dissi. Potreste sbagliarvi distanza borbottò la vecchia e si fece alla porta.